Sorgenia ha messo al centro delle proprie attività l'innovazione e innovazione che si declina su due ambiti, uno è il digitale e l'altra è la sostenibilità ambientale. GaiaGo è la prima mobility company italiana che costruisce piattaforme di mobilità totalmente sostenibili inclusive per comunità. Abbiamo sviluppato insieme a GaiaGo un'idea di sharing della mobilità elettrica. Una flotta di veicoli totalmente elettrici a disposizione della community aziendale attraverso l'uso dell'applicativo di GaiaGo. Siamo rivolti verso l'auto elettrica come strumento per ridurre l'impatto ambientale, in particolare l'impatto nelle città.